Schianto fatale, è morto il famoso VIP. Prima di iniziare questa triste storia, vi prego di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Sono davvero felice di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo triste racconto. Oggi vi portiamo una notizia che ha scosso il mondo della televisione e del gossip. Un nome noto, un ex star dei reality, si è spento a soli 36 anni in circostanze tragiche e misteriose. Ha fatto parte di De Bachelorette, un famoso reality americano. Due settimane fa, aveva festeggiato la nascita della sua seconda figlia, avuta dalla sua attuale compagna Crystal Taylor. Questo evento aveva fatto parlare di lui nei circoli del gossip australiano. Tuttavia, il destino ha riservato un tragico epilogo a questa storia. La notte del sabato 9 settembre, intorno alle 23, la sua auto è precipitata da una scogliera a Dover Eitz, nella periferia di Sydney. Nonostante l'intervento tempestivo della polizia e dei soccorsi, la macchina aveva già preso fuoco, e ogni tentativo di salvarlo è stato vano. È morto sul colpo. Ma cosa ha portato a questa tragedia? Al momento, la dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. La polizia non ha dichiarato nulla di sospetto, ma questa storia è costellata da eventi complessi e problemi che avevano segnato la sua vita. Aveva già avuto problemi con la legge in passato, con una condanna a 13 mesi di carcere nel 2013 per minacce al suo patrigno. Questi eventi avevano contribuito a rendere la sua vita tutto tranne che facile. Aveva lottato con problemi di dipendenza dall'alcol, e la sua carriera televisiva era stata interrotta dopo un incidente in cui aveva rifiutato di presentare Alio e Jen alla sua famiglia durante De Bachelorette. Dopo essere stato escluso dal reality, aveva fatto parlare di sé per episodi di violenza, incluso un alterco con una guardia di un locale e aver guidato in stato di ebrezza. La sua vita era cambiata notevolmente, passando dal mondo dello spettacolo a quello della muratura. Si tratta di Charlie Newling, e la notizia della sua morte ha suscitato migliaia di messaggi di cordoglio sui social media, con molti che lo ricordano come un ex star della tv australiana morto a soli 36 anni. Era diventato padre di due figli, uno nato dalla sua relazione con Crystal Taylor e l'altro da una precedente relazione. Il destino ha deciso di portargli via la vita nel momento in cui sembrava aver trovato una nuova dimensione come padre di famiglia. Cosa pensate possa essersi veramente verificato quella tragica notte a Dover Hates? Credete che ci siano elementi misteriosi che non sono stati svelati? Lasciateci la vostra opinione nei commenti e continuate a seguirci su Amica Gossip per le ultime notizie e i gossip più avvincenti dal mondo dello spettacolo. A presto!